ero qui che camminavo per i fatti miei arriva questo trentenne tutto palestrato io avevo un po la maglia tirata su mi guarda e mi fa con la faccia tutta un po schifata ma tu hai mai sentito parlare di una serie di addominali io lo guardo e li faccio intanto toglierti questa reda sufficienza che nessuno ti ha detto di fermarti e venire qui a dire sta cosa e poi io serie di addominali su netflix l'ho cercata e non l'ho trovata quindi non venirmi a raccontare stronzate a me mi non si può dire tranne nella frase a me mi hai rotto il cazzo perché in quel caso a me mi è rafforzativo e fa capire all'interlocutore che non stiamo parlando di una crepetta in superficie ma stiamo parlando di un'ingente rottura del membro pertanto in questo caso a me mi è consentito a me mi hai rotto il cazzo in tutti gli altri casi usate la forma semplice avete un lavoro e vi lamentate avete un amore e non siete felici avete la salute rompete il cazzo tornate da un viaggio non siete contenti non è la vita che è una merda siete voi che fate schifo ora a me piacerebbe avere la pazienza di quelli che si asciugano completamente le mani negli asciugamani elettrici però non ce l'ho infatti prima ho sbottato perché ero alla conad e ho visto nel reparto alcolici dei ragazzini in età giovanissima prendere delle bottiglie di vodka senza rendersi minimamente conto della gravità di quello che stavano facendo infatti non ci ho visto più mi è salito il sangue al cervello sono andato da loro e ho detto ragazzi non fate cazzate andate alla lidl perché lì la vodka costa molto di meno persino dio dopo aver creato il mondo il settimo giorno si riposò questo però non è possibile per noi comuni mortali a causa delle chiese che continuamente al mattino già dalle prime ore rompono i coglioni svegliando tutti quanti quelli del vicinato la nostra proposta per l'ordine clericale per il pontefice è quella di abolire definitivamente le campane e magari incentivare la riunione raccolta dei fedeli attraverso i tradizionali canali telematici o digitali non so ad esempio vi potete fare un gruppo di telegram o di whatsapp riunite raccolta e non rompete il cazzo a noi che vogliamo dormire allora è successo questo è venuta la mia ragazza da me mi ha chiesto amore per cortesia potresti innaffiare le piante io gli ho detto assolutamente di no cioè a voi sembra corretto che le piante abbiano vissuto sul mondo per miliardi di anni prima dell'arrivo dell'uomo e oggi debbano voler essere innaffiate da me oggi vi voglio parlare di quando la mia ragazza mi ha detto amore fra 7 miliardi di persone ho scelto te ora io ho fatto un'analisi un po più approfondita viviamo in un paese con 2000 abitanti di cui circa un terzo sono parenti i restanti sono anziani e bambini e quindi secondo me mi stava un po prendendo per il culo cioè ragazzi vi giuro io a volte vorrei avere un violoncellista a sottolineare i momenti drammatici delle mie giornate prima sono andato al supermercato perché avevo finito i biscotti alla nutella e la carta igienica mi sono messo in coda lì col mio bel paccone e tutti mi hanno guardato come se stessi per cagare lì davanti alla cassa poi la cassiera mi ha dato un buono sconto ho detto bella vado a comprarmi altri biscotti poi l'ho letto meglio e potevo usarlo soltanto se avevo speso più di 1385 euro comprato parco della vittoria e conquistato la kamchatka fatto sta che poi alla fine sono andato a casa mi sono messo a mangiare i miei biscotti e mi è caduto l'occhio sul retro della confezione c'era scritto che tre biscotti corrispondevano al 10 per cento del fabbisogno giornaliero ecco io stamattina ho già mangiato il fabbisogno del 2020 l'altro giorno sul ciglio della strada ho visto una vecchietta con le buste della spesa in mano era ferma col suo viso sofferente si guardava intorno mentre le auto le passavano accanto a tutta velocità il suo volto era pieno di tristezza le sue espressioni erano piene di fatica la fatica che fanno i vecchi a dover vivere fino alla morte allora mi sono avvicinato le ho preso le buste della spesa e l'ho aiutata ad attraversare una volta giunti dall'altra parte della strada lei mi ha guardato negli occhi e mi ha detto col volto pieno di amarezza delle parole che non dimenticherò mai io non dovevo attraversare a volte provo dei leggeri fastidi vado su google e mi diagnostico delle malattie mortali da solo la maggior parte delle volte mi leggo tutta la descrizione della malattia poi arrivo ai sintomi leggo dimagrimento e soltanto a quel punto mi tranquillizzo se vedete una stella cadente ed esaudite un desiderio è naturale che quel desiderio non si realizzerà perché quel corpo celeste è già morto da alcuni milioni di anni esattamente come i vostri sogni e le vostre speranze hai presente quando dovresti dimagrire ma cazzo teneci hai fame e mangi eccomi qua la mia ragazza ieri ha fatto una torta al cioccolato e io ne ho mangiata a metà l'altra metà lei l'ha postata su facebook e ci ha scritto sopra sono da sposare al che io sono intervenuto nei commenti e le ho risposto amore guarda che c'è anche la concreta possibilità che tu sappia semplicemente fare una torta il commento ha preso 40 like lei si è incazzata a morte e mi ha dato del ciccione obeso ma tanto io non temo il suo giudizio non temo quello della bilancia figuriamoci il suo certe volte dico giornata di merda anche se ancora non mi è successo niente di negativo vado così a fiducia tipo stamattina che mi sono alzato credendo che tanto nessuno poteva ostacolare il mio buon umore perché tanto non ne avevo sono sceso sono andato a far colazione al bar e ho letto sul giornale l'articolo di uno che aveva ucciso un altro con cento coltellate al che ho detto come è possibile uccidere un uomo con cento coltellate cioè alla fine due o tre sono sufficienti perché accanirsi così tanto poi quello davanti a me si è preso l'ultimo cornetto rimasto allora ho capito dopo la terza persona di merda che incontri la vita dovrebbe fartene incontrare una bellissima invece no arriva la quarta dopo aver risposto con ingiuria tre operatori di call center che stamattina mi hanno chiamato cercando di vendermi prodotti di cui a me non fregava un cazzo mi ha mandato un messaggio un mio amico chiedendomi se potevo accompagnarlo in aeroporto ora non è tanto per lo sbattimento di accompagnarlo in aeroporto ma per il fatto che avevo appena messo giù quel call center e il mio amico aveva diviso il messaggio in otto piccole frasi che hanno generato otto piccole notifiche pertanto mi sono trovato costretto a pronunciare otto grandi offese nei confronti dell'ordine sacerdotale io gliel'ho fatto presente al mio amico lui mi ha detto dai non ti arrabbiare ma perché dovrei imparare io a gestire la rabbia non sarebbe meglio se fossero le altre persone a non rompermi più le palle quando mi vedete per strada e non vi saluto non è perché mi state sul cazzo ma è perché sono mio cioè può essere pure che mi state sul cazzo ma sono mio per veramente prima mi ha scritto un mio amico e mi fa ti ho visto che camminavi volevo salutarti ma tu non mi hai visto ti posso chiamare al che io avrei voluto dirgli guarda dammi cinque minuti che spengo il telefono ma poi alla fine gli ho detto ok dai chiama non lo sentivo da un sacco di tempo e lui la prima cosa che mi ha detto è stata come stai al che io ho risposto bene grazie cioè in questi casi si risponde sempre bene grazie perché non è che puoi dire guarda è un periodo del cazzo ma ne uscirò da solo contando sulle mie forze come sempre e poi è un periodo del cazzo che dura da diversi anni e non è che posso dire che sto di merda dal 2011 se no sembrerebbe troppo teatrale quando dite permesso nessuno vi calcola ma provate a dire perché non ti sciacqui dal cazzo ancora meglio perché non ti scrosti li vedete come si girano fateci caso e poi questo secondo tipo di locuzione oltre ad essere più efficace anche più sincero è presente persino uno studio che dimostra che le persone che dicono molte parolacce sono quelle più sincere più oneste perché non esiste modo più sincero e onesto di esprimere le proprie emozioni se non con la parolaccia e quindi vaffanculo avete presente la storia del se ti comporti bene prima o poi la fortuna girerà dalla tua parte ecco una puttanata prima sono andato col mio amico a mangiarmi un panino e per comportarmi bene gli ho chiesto se ne voleva un pezzo del mio ora premesso che quando sto mangiando qualcosa e chiedo se ne volete un pezzo lo faccio solo per educazione quindi come cazzo vi permettete a dirmi di sì ma poi lui non solo se l'è mangiato davvero ma anche grattato da solo il grattevinci che abbiamo comprato in società e ovviamente ha perso quindi altro che fortuna l'ultima volta che ho avuto una botta di culo è stata forse all'elementare quando sono caduto dall'altalena e mi sono rotto l'osso sacro divertentissimi quelli che mi dicono ma non ti annoia stare a casa anche di domenica no raga senza il genere umano intorno si sta una favola infatti questo video è dedicato a noi a noi che la domenica non andiamo a correre a noi che la domenica la passiamo sul divano a noi che il nostro sport preferito sono i film e le serie tv a noi che il pigiama è il nostro stile di vita a noi che la domenica non siamo persone ma copri divano anche perché se vai in palestra torni a casa con gli ossa rotte se vai in piscina rischi di prenderti la sinusite se vai in bicicletta puoi cadere su una buca il divano non ha mai fatto tutti questi danni whatsapp è quell'applicazione esoterica capace di trasformare il visualizzato senza risposta in ansia l'ansia in stalking fino ad arrivare alla psicopatia ma la cosa più irritante è quando hai già verificato tutte le informazioni sul web ti arriva la risposta e devi pure fingere stupore per questo motivo io ho sempre preferito i vecchi sms primo perché non generavano angoscia e secondo perché costavano 20 centesimi e quindi la gente ci pensava più volte prima di scriverti e rompere il cazzo la foto di gruppo è bella ma soltanto se sono venuto bene io infatti tra tutte quelle che ho fatto al lago l'altro giorno ne ho postata una in cui la mia amica era venuta di merda e invece io eccezionalmente avevo le sembianze umane poi la mia amica ha commentato e mi ha scritto non solo arrivi in ritardo ma posti anche una foto in cui sembro cristiano malgioglio e poi sotto ci ha messo un link ora per il ritardo è vero ha ragione sono un ritardatario e io amo anche anzi uscire con i ritardatari perché quando dai appuntamento a un ritardatario potete presentarvi entrambi comodamente mezz'ora dopo e quando succede è bellissimo cioè io proprio mi commuovo e viene quasi voglia di abbracciarsi ma per quanto riguarda il link che ha postato sotto il commento quello col cazzo che lo apro cioè non commentate mai i miei post con dei link perché tanto io non li apro perché so già che se li apro poi voi mi clonate la carta di credito e già vi vedo in giro per il mondo a sbocciare con i miei 40 euro quando uno tira il pacco è perché ha trovato qualcosa di meglio da fare per esempio devi vedere un tuo amico e poi lo pacchi perché devi andare in motel con una tettona ricca se lui fosse veramente tuo amico dovrebbe essere contento di questa tua migliore attività alternativa io se fossi paccato da un mio amico per un'azione di accoppiamento non avrei problemi lo accetterei con tranquillità ed è per questo che ho deciso che vi batterò fino alla morte per l'accettazione sociale del pacco e tutti quelli che invece si offendono che si fottano quando sto per fare una cazzata per fortuna poi me ne accorgo e la faccio lo stesso ma con più consapevolezza generalmente poi non mi limito a fare una cazzata per volta ma ne faccio almeno tre contemporaneamente in pratica esco a trilogie sono molto esperto in questo campo perché l'esperienza non è altro che la somma delle volte che le cazzate commesse poi me l'hanno fatta prendere al culo infatti ho capito che la regola fondamentale è quella di non commettere mai le stesse cazzate perché non bisogna mai commettere gli stessi errori ma bisogna piuttosto concentrarsi nella ricerca e nella selezione di errori sempre nuovi cioè ma vi rendete conto che anche oggi c'è gente che alle 5 di mattina si è alzata per andare a correre cioè ma io boh poi ci sono quelli che pagano per le saune quando potrebbero venire tranquillamente a casa mia stirare altre ancora mentre sono in strada che registro i video mi guardano male cioè ma che cazzo ti guardi male siamo nel 2020 ho dei social da mandare avanti poi ci sono quelli peggiori che sono quelli che quando dico che ho fame rispondono ma di già cioè io quando dico che ho fame ho bisogno di gente che dica anch'io non ma di già secondo me quelli che dicono ma di già sono gli stessi che vanno a correre alle 5 di mattina cioè a volte ho proprio la sensazione di avere a che fare con gli stessi coglioni reincarnati in diversi corpi perché altrimenti non me lo spiego infatti mentre molta gente aspetta che cadano le stelle io aspetto che cadano le persone di faccia dalle scale e con le mani in tasca che ansia quando ti senti felice allora ti guardi intorno per capire da quale lato arriverà la prossima persona che ti romperà il cazzo interrompendo così il tuo stato di beatitudine questa mattina è stata la volta di mio zio che mi ha chiamato e mi ha detto frank perché non vieni mai a trovarmi io avrei voluto rispondere in modo sincero avrei voluto dire guarda zio non vengo mai perché a casa tua mi rompe i coglioni ma in prima battuta ho targiversato e non ho detto niente quando sto zitto e non dico niente la gente pensa che sono debole ma in realtà la forza che ci metto nel non mandarli a fanculo è veramente tanta primo perché mio zio è la classica persona come se ne vedono molte che riesce ad avere un'opinione su tutto senza di fatto sapere un cazzo di niente e secondo perché questa sua richiesta mi ha davvero stressato parecchio e siccome i ricercatori dicono che lo stress prolungato causa danni al cervello se vi dico di non rompere il cazzo non è perché sono maleducato ma è perché sono salutista mi hanno fatto credere che per essere felice bastasse l'amore poi ho assaggiato il sashimi il problema però sono le confezioni o perlomeno le confezioni che compro io prima stavo scrivendo un paio di ossimori perché per chi non lo sapesse io sono uno scrittore e per chi non lo sapesse gli ossimori sono quelle robe lì tipo ghiaccio bollente silenzio assordante bellissimo lunedì vabbè stavo costruendo una frase con ossimori stupenda anche con la parola orsu che a me piace tantissimo perché rende la frase più elegante tipo orsu dai perché non te ne vai a fanculo cioè sentite la raffinatezza vabbè stavo scrivendo mi è venuta voglia di sashimi solo che ci ho messo 35 minuti ad aprire la confezione poi solamente dopo aver iniziato a mangiare ho notato la scritta aprire qui che era gigantesca tra l'altro infatti ho capito che non importa quanto facciate grande la scritta aprire qui io la noterò sempre solo dopo aver aperto la confezione con la motosega oggi come ogni mattina mi sono alzato e mi sono detto ma perché uno dovrebbe alzarsi così presto mettersi del dentifricio in bocca e andare a lavoro e quindi a fare degli sbattimenti per qualcosa di cui fondamentalmente non gliene frega un cazzo poi si è attivata la vocina del cervello e mi ha ricordato di essere povero come la merda quindi mi sono alzato e sono andato al lavoro uscendo di casa un ragazzino di 15 anni correndo mi ha pestato dentro un piede si è girato e mi ha detto mi scusi signore poi il padre lo ha rimproverato gli ha detto stasera fili in camera tua e non esci di casa io ho apprezzato tutto moltissimo soprattutto il fatto che mi abbia chiamato signore perché a me non dà fastidio quando i ragazzini mi chiamano signore anzi mi piacerebbe che aggiungessero anche sua maestà ma prima o poi impareranno ma poi quando il padre gli ha detto stasera fili in camera tua e non esci di casa mi sono ricordato che anche i miei quando facevo qualche cazzata mi dicevano stasera non esci di casa fila in camera tua o non alzarti dal divano in pratica tutte le punizioni che mi davano da bambino sono diventate i miei hobby preferiti di adesso l'espressione che ha mia nonna quando serve il menù del cellulare è molto simile all'espressione che ho io quando servo il menù del ristorante ma la cosa incredibile è che nonostante lei non sappia usare whatsapp il modo di mandarmi un buongiornissimo caffè o una gif glitterata del papa riesce sempre a trovarlo mia nonna si contraddistingue anche per il suo infondato ottimismo nei miei confronti tipo oggi che mi ha detto frank beato te che hai 30 anni ha il mondo in mano questi sono gli anni migliori e poi adesso arriva l'estate e vedrai come ti divertirai ora innanzitutto l'estate è bella soltanto se hai i soldi gli addominali non hai le ghiandole sudoripare hai la fiducia in te stesso e sei una lucertola perché altrimenti fa obiettivamente cagare e poi se penso che veramente questi sono gli anni migliori mi viene voglia di buttarmi da un grattacielo di testa e con le mani in tasca oggi proprio non ce la faccio a farcela cioè ho quella sottile ma neanche tanto sensazione che la mia vita stia andando completamente a puttane come quando si dice tutto va come deve andare e puntualmente va di merda poi chiamato il mio amico per farmi consolare lui mi ha detto no dai non fare così devi provare a fare ciò che ti rende felice no guarda faccio di tutto per vivere una vita di merda di proposito gli ho attaccato il telefono in faccia cioè non voglio più permettere a nessuno di rovinarmi una giornata che sono già perfettamente in grado di rovinarmi da solo che poi non chiedo tanto avrei soltanto bisogno di un abbraccio di dormire di un bonifico e di perdere chili alla stessa velocità con cui perdo la pazienza chiedo troppo a quello che ha inventato il silenzioso nei gruppi di whatsapp ritengo doveroso che gli venga consegnato un nobel per almeno 10 anni infatti è lo strumento definitivo quando veniamo messi contro la nostra volontà a dover interloquire in una chat con delle persone che qualora dovessero morire domani la nostra esistenza non subirebbe ripercussioni o quantomeno non subirebbe ripercussioni negative qualche mio amico poi mi dice ma no dai frank non fare così non portare rancore e quando mi dicono di non portare rancore io ripenso sempre a piero il mio ex compagno di banco delle medie con cui avevo litigato nel 2001 e che tutt'oggi mi sta sul cazzo allora la situazione è esattamente questa sta capitando troppo spesso che vado in cucina magari per bere e poi mi succedono merendine profiterol e panina alla nutella magari anche dopo aver pranzato o cenato anche quando sono molto pieno qualche dolce mi succede sempre probabilmente perché i dolci non vanno nello stomaco ma vanno nel cuore eppure faccio molto allenamento perché mi sono alzato dal letto per 365 giorni all'anno da almeno 32 anni quindi quanto saranno 11.000 addominali eppure pare che tutta questa attività non sia servita a un cazzo e poi non mi spiego come sia possibile che ogni tanto incontro gente che mi dice mi sono dimenticato di mangiare e quando succede è normale che poi io li guardo male a oltranza cioè io incentro la mia vita sul cibo e tu ti sei dimenticato di pranzare e magari sei anche magro devi inciampare male e non merita alcun rispetto no questa ve la devo raccontare perché è veramente assurda stamattina nel gruppo whatsapp con i miei amici ha scritto carlo perché volevo organizzare per capodanno cioè questo fa progetti da qua a capodanno quando per quanto mi riguarda la mia vita potrebbe andare tranquillamente a puttane anche domattina e poi perché dovremmo fare per forza qualcosa a capodanno non facciamo un cazzo tutto l'anno rimaniamo coerenti e comunque carlo mi sta sul cazzo perché è la tipica persona laureata sposata in carriera realizzata gli stanno anche bene investiti e mi spiace dirlo ma è la classica persona che abbiamo tutti che se c'è lui io non vengo e poi ci sono anche andato in vacanza una volta con carlo e oltre al fatto che mi faceva sentire a disagio perché io non sono realizzato e sono povero andava anche nella palestra dell'hotel cioè tu sei in vacanza e vai nella palestra dell'hotel è evidente che hai dei problemi di mente e poi nella vita non è che possiamo essere tutti realizzati felici e contenti cioè nel mondo ci vogliono anche persone come me che nella vita fanno schifo nella vita se non esci di casa allora sei depresso ma se esci di casa allora a casa non hai nessuno che ti vuole bene se mangi tanto sei un esagerato ma se fai sport e ti metti a dieta allora sei un fissato del cazzo se ti vesti male sei uno zingaro e se ti vesti bene sei un esaltato se ti fai i cazzi tuoi sei un eremita asociale e se invece parli degli altri sei un pettegolo in piccione tutto questo nella vita perché invece se muori potrai stare tranquillo che senz'altro tutti quanti diranno che eri davvero una gran bella persona siamo tutti cristiani osservanti fino a che le buste della spesa non ti si sfondano nel parcheggio perché in quel caso è obbligatorio inveire contro il clero e contro quelle buste di merda che ti danno nei supermercati che hanno pressa poco la stessa utilità delle bic verdi direi che partire dalla scimmia per arrivare a progettare dei sacchetti così di merda non può in nessun modo definirsi evoluzione ma come sempre stenderò il mio velo pietoso anche sui progettatori di sacchetti per supermercati anche se in tutta sincerità mi sarebbe piaciuto stendere del cemento a presa rapida oggi volevo dire a tutti coloro che hanno dovuto annullare il matrimonio a causa del covid che lo hanno già riprogrammato che sono dei fessacchiotti gli dei hanno voluto darvi una seconda possibilità ma voi nell'essere coglioni avete la stessa tenacia che a radiomaria nelle gallerie peggio di voi soltanto quelli che si sposano per la seconda volta a maggior ragione se siete poveri perché storicamente il matrimonio è nato per consolidare il potere e quindi si facevano sposare i figli di due famiglie ricche per invigorire i possedimenti di entrambe e lì aveva un senso ma nel 2020 se vi sposate soltanto per amore è matematico che farete la cazzata a ulteriore maggior ragione se avete invitato me al vostro matrimonio perché ai matrimoni si fa il regalo e io non ve lo voglio fare perché che cosa ve lo faccio a fare che già non ho soldi e tanto poi divorziate stanotte ho dormito benissimo perché durante il sonno non ho speso soldi e non ho litigato con nessuno ma stamattina mi sono alzato con il solito tipico umore che soltanto un bonifico da 50 mila euro avrebbe potuto colmare poi sono andato in bagno ho fatto una doccia caldo fredda che alle terme si chiama scozzese e costa soldi invece a casa mia è gratis e si chiama chiudi il cazzo di rubinetto della cucina quindi dopo aver imprecato contro la curia sono stato per un po indeciso sul si aprire una grossa multinazionale con 20 mila dipendenti oppure andare al bar a bere la birra poi ho pensato che per aprire la multinazionale ci volevano soldi tempo contatti e sbattimenti vari invece erano già le 11 e mezza avevo sete e quindi ho optato per andare al bar a bere la birra perché nell'immediato si rivelava senza dubbio la decisione più efficace nel 1473 nacque nicolò copernico l'uomo che ci insegnò che la terra gira intorno al sole e non intorno a te quindi se pensi di essere un tuttologo soltanto perché quell'informazione te l'ha detta tuo cugino o l'hai letta su internet mi confermerai con ancora più sicurezza che la teoria di darwin è errata e che gli uomini di neandertal camminano tutt'oggi indisturbati tra di noi e arriverà un certo punto della conversazione in cui mi parlerai come se io ti ascoltassi ma siccome ho una testa che seppur di cazzo mi consente di prendere decisioni in autonomia io dissimulerò e me ne andrò via anche perché per me è un'arte raccogliere cocci di coglioni frantumati andarmene via senza far vedere agli altri che non vedevo l'ora di farlo una giornata così di merda non la si vedeva da ieri stamattina stavo scivolando nella doccia e proprio mi è passata tutta la vita davanti e obiettivamente era meglio se scivolavo poi anche oggi sono povero mi stanno sudando parti del corpo che non sapevo nemmeno di avere e le zanzare mi hanno eletto al loro prodotto dell'anno che poi io non chiedo tanto cioè a me basterebbe una gioia ogni quattro anni come i mondiali che ne so una donazione una vincita un condizionatore in regalo gli ho parlato anche con la mia ragazza e lei mi ha detto ma no amore tranquillo non preoccuparti per me i soldi non fanno la felicità l'importante è l'amore faccio vabbè allora vado a fare la spesa sperando che accettino coccole e carezze guardate l'unica cosa che mi trattiene dal fare una rapina è il fatto che probabilmente poi dovrei scappare correndo tutti vogliono la verità poi gliela dice diventi improvvisamente uno stronzo e purtroppo io se dicessi sempre quello che penso direi la verità ma sarebbero quasi tutte parolacce se poi dovessi pure fare tutto quello che voglio lì sarebbero 30 anni di prigione senza la condizionale però questa ve la devo dire ora che tutto il mondo è in grado di lavarsi le mani è giunto il momento di procedere con il secondo step e cioè le ascelle sono preoccupato perché ancora non è uscito il video tutorial di barbara d'urso e pertanto vorrei farmi io portavoce dell'igiene ascellare appena vi alzate lavatevi immediatamente almeno le ascelle anche perché poi se vi incontro e puzzate il mio mattino ha l'odio in bocca e quindi sono costretto a dirvi la verità e cioè che non tutta la spazzatura sta nei bidoni ma a volte cammina anche per strada e mentre la gente ringrazia le persone che nella vita li sono state vicine io ringrazio sempre quelle che mi sono state lontane continuate a farlo fare una buona impressione durante un colloquio di lavoro per me ha la stessa probabilità che l'offerta di poltrone e sofà finisca oggi ho fatto un colloquio con un selezionatore dopo avergli spiegato le mie condizioni di povertà lui mi ha detto guarda all'inizio lo stipendio è di 1000 euro con possibilità di crescita allora io nascondendo a fatica le espressioni di disagio sotto la mascherina ho pensato ok all'inizio non faccio un cazzo con possibilità che poi lo farò ma la cosa curiosa è avvenuta successivamente quando è stato il momento di salutarci non ricordavo il cognome del selezionatore ma ricordavo perfettamente a che cosa somigliasse infatti gli ho detto arrivederci signor foglioni ma ho fatto la figura di merda perché il suo vero cognome era festicoli e quindi uscendo ormai rassegnato a rimanere povero ho tirato giù due terzi del calendario e mi hanno contattato anche dal vaticano per capire cosa stesse succedendo perché l'intonaco della cappella sistina stava cominciando a frantumarsi avevo messo gli applausi come suoneria alla mia sveglia per avere la riconoscenza che merito quando mi alzo dal letto ma nemmeno gli applausi sono sufficienti quando quella sveglia sono anche su alexa alle 4 di mattina perché qualche amico o presunto tale l'ha impostata per scherzo la sera prima infatti nessuno potrà mai dire che frequento i miei amici per convenienza perché non vi è la benché minima convenienza frequentare persone che hanno fatto dell'impostarmi la sveglia su alexa alle 4 di mattina a uno sport nazionale e soltanto recentemente ho scoperto chi era l'artefice dello scherzo di merda e quindi ho dovuto estragnarlo definitivamente dai teatrini e dai salotti di casa mia adesso quella persona non fa altro che chiamarmi per chiedermi se mi va di vederci e di metterci una pietra sopra ma io gli ho detto che ci vedo benissimo di mettersi lui una pietra sopra perché se dovessi mettergliela io gliela tirerei bene bene sulla fronte sul curriculum ho mentito ho scritto che è un'ottima predisposizione per i rapporti sociali e che sono in grado di lavorare in team mentre invece nella realtà cerco sempre di non incrociare esseri umani perché su 8 miliardi di persone me ne staranno simpatiche 8 o 9 questo mi si è ritorto contro stamattina quando ho fatto il mio primo giorno di lavoro in ufficio nella nuova azienda dopo essere stato per mesi in smart working è arrivata una collega e mi fa è nata il figlio di andrea noi gli stiamo facendo il regalo vuoi partecipare no non voglio partecipare punto numero uno chi cazzo è andrea e punto numero due perché mai dovrei fare un regalo a un bambino che non saprà mai chi sono il cui padre mi sta già sul cazzo a prescindere sono stato molto criticato ma me le critiche vanno sempre bene soprattutto se sono costruttive e se chi le fa poi inciampa e cade dalle scale lo sapevo che non dovevo fare sto lavoro di merda che dovevo fare l'autista del pullman perché già da piccolo quella scritta non si parla al conducente mi affascinava di brutto mi ha scritto la mia ragazza e mi ha detto amore sono passato al supermercato ho preso le gallette di mais il tofu e il setan le ho risposto perfetto adesso ci passo anch'io così prendo anche da mangiare sono andato ho preso la pasta e bastoncini findus poi la sera volevo cuocere la pasta ma non sono riuscito a trovare i minuti di cottura infatti se dovessi nascondere un'informazione riservatissima la fiderei al tizio che decide dove scrivere il tempo di cottura sulla pasta perché io impiego più tempo a trovare quello che proprio a cuocere la pasta poi alla fine ho optato per i bastoncini findus è arrivata la mia ragazza e mi ha detto amore ma perché non li fai al forno che sono più leggeri ora se una cosa si può friggere e tu mi dici perché non la fai al forno che è più leggera mi stai già un po sul cazzo ma poi ti sei comprata i tuoi setan e i tuoi tofu del cazzo perché non mi lasci fare schifo in santa pace prima mi è squillato il telefono e io come ogni telefonata che ricevo ho esclamato chi cazzo è adesso che rompe i coglioni anche perché erano le 10 e io dal letto mi alzo sempre dopo mezzogiorno perché è un modo per risparmiare i soldi della colazione infatti se volete poi seguitemi anche per altri consigli finanziari fatto sta che al telefono era un mio ex collega che io come gastro protettore stavo facendo finta che non esistesse più e mi ha chiamato perché aveva visto dei miei video e quindi ho dovuto scambiarci due chiacchiere di cortesia tipo anche se non me ne fregava un cazzo gli ho chiesto come stava suo figlio se cresceva gli ho chiesto ma quanto ha adesso fa 30 mesi ho detto cazzo è un formaggio poi mi ha detto che andava tutto bene che era al mare gli ho detto ma va figurati se sono invidioso che tu sei al mare felice spensierato e io no comunque stai attento alle meduse e occhio al sole perché fa male alla pelle lui mi ha detto no le meduse no perché tanto io non so nuotare ma io gli ho detto che tanto tu anche se non sai nuotare galleggi benissimo così vediamo se la prossima volta mi rompe ancora i coglioni per parlare di merdate prima avevo una mezza idea di andare a correre ma poi alla fine ha vinto l'altra mezza perché ho pensato io già corro con la fantasia non è che si può pretendere che io vada a correre anche nella realtà quindi stavo andando al bar ma poi ho visto che nella casella della posta c'era una busta e ho pensato sarà sicuramente una pubblicità una bolletta o una multa e invece era qualcosa di molto peggio e cioè un invito a un matrimonio di uno con cui uscivo qualche anno fa e di cui adesso fondamentalmente non me ne frega più un cazzo spero che guardi questo video e che lo guardino anche tutte le persone che mi conoscono e che si vogliono sposare perché io dopo mille mesi di lavoro voglio andare in vacanza e non ai vostri matrimoni della minchia quindi se vi volete sposare per favore non invitatevi andate a convivere piuttosto ma per cortesia fate finta che io non esista grazie a dio sono arrivato a 32 anni e so riconoscere perfettamente quando uno è un coglione e il mondo è infinitamente ricolmo di persone dotate di questo straordinario potere e cioè quello di non capire mai un cazzo e mi riferisco a tutti coloro che sostengono che i soldi non facciano la felicità ora di sicuro i soldi vengono dopo la salute ma se uno è in salute sicuramente non potrà mai trovare birrerie che danno la birra gratis pizzerie che non fanno pagare la pizza o agenzie viaggio che regalano vacanze quindi se mi dici che i soldi non fanno la felicità non discendi da Adamo ed Eva ma discendi dal verme che c'era dentro la mela poi riflettendo ancora più realisticamente i soldi ti permetterebbero pure di comprare una barca con delle accompagnatrici non mi è mai capitato di vedere qualcuno triste circondato da escort sopra a uno yacht nel mio armadio i vestiti sono suddivisi in estivi, invernali quelli che metterò per andare su Saturno e quelli che metterò se dimagrisco e poi ho anche un appoggia vestiti a forma di ciclette che solo recentemente ho scoperto che può essere utilizzato anche proprio come ciclette ed è quello che dovrei fare perché ho un fisico da dio ma il dio in questione credo sia Buddha perché ritrovo sempre io l'appetito di tutti quelli che lo perdono ho provato anche a mettermi a dieta ma già dopo il terzo giorno sgarro e inizio a provare attrazione alimentare anche per il sapone alla vaniglia anche la mia ragazza dice che dovrei fare una dieta povera di carboidrati e ricca di vitamine calcio e minerali ma io le vitamine le prendo dal limoncello e il calcio e i minerali le prendo dal nesquik anche prima stavo provando una tisana indiana dimagrante che insieme ai biscotti alla nutella era fenomenale ma sono stato criticato per la mia incoerenza vorrei essere magro e felice da fare schifo ma attualmente sono solo a metà percorso perché faccio solo schifo volevo dire una cosa per togliermi un sassolino dalla scarpa ma paura che poi togliendomi il sassolino arriverebbero i vecchi a controllare il cantiere ma se c'è una specie che sicuramente nella scala evolutiva è al di sotto del plankton vegetale è sicuramente quella delle persone che ti fermano per strada per chiederti delle donazioni oppure per chiederti di comprare delle cose di cui non te ne frega un cazzo per esempio prima ero in Duomo e mi ha fermato uno che alla fine voleva vendermi dei libri e io invidio tantissimo la fortuna che hanno i camaleonti che possono mimetizzarsi quando incontrano qualcuno che potenzialmente potrebbe rompergli i coglioni però io purtroppo non ho questa possibilità e quindi mando a fare in culo all'inizio il venditore sembrava cordiale ma poi ha utilizzato la tattica dello sfinimento per provare a farmi comprare perché il problema è proprio questo cioè che le persone non fanno schifo subito gli ho detto che se fossi stato un albero avrei preferito diventare un rotolo di carta igienica piuttosto che uno di quei suoi libri di merda ma poi alla fine ho lasciato correre perché tanto c'è un precipizzo per tutti prima mi ha incrociato un mio ex compagno delle elementari che già mi stava sul cazzo a quei tempi quando ancora riuscivo a concludere le mie giornate senza bestemmiare quindi figuriamoci adesso che ho perfezionato l'odio nei confronti di ogni divinità e di ogni essere umano mi fa ciao frank ma io non ricordavo nemmeno il suo nome e quindi come tutte le volte ho salutato con ue grandissimo mi fa è un po' che non ci si sente e io volevo dirgli che due domande sul perché avrebbe dovuto farsele ma alla fine ho utilizzato l'antica tecnica del fingere di ricevere una telefonata perché ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente ma di cui con ogni probabilità non ti frega un cazzo e quindi è sempre bene fingere di ricevere una telefonata per togliersi dei potenziali problemi l'obiettivo per raggiungere il mio peso forma sarebbe quello di perdere sei chili ma io mi sono proposto un obiettivo più ragionevole e cioè quello di diventare imperatore della Cina che poi i chili dovrei perderli sempre per colpa delle persone che hanno i loro stereotipi del cazzo in testa e pensano male di te per il tuo aspetto esteriore per quanto pesi eccetera ma tanto io ho le zanzare che tanto a loro piaccio così come sono ma la cosa assurda è che pensano male di te anche le persone che tu non avresti mai creduto che fossero in grado di pensare per loro ciascuna delle mie 12 personalità coi coglioni girati assegna sempre almeno un paio di vaffanculi d'ufficio e questi vaffanculi sono di default come ai caselli autostradali dopo il pagamento del pedaggio non importa chi ha ragione o chi ha torto quando si litiga su whatsapp l'unica cosa che veramente conta è digitare più velocemente dell'altro perché pensare troppo e non essere rapido e puntuale nell'insulto dimostra debolezza e il vostro avversario non farà altro che approfittarne invece digitando con foga sul tastierino insultando con precisione il vostro interlocutore dall'altra parte otterrete con ogni probabilità l'abbandono della conversazione e quindi la vittoria ieri un mio amico mi fa domani mattina andiamo a correre io gli ho detto guarda se mi porti sulle spalle vengo lui mi fa dai rompi sempre i coglioni perché devi dimagrire corro io e tu mi segui in bicicletta gli ho detto dai poi vediamo ti faccio sapere ovviamente quando dico poi vediamo ti faccio sapere è abbastanza chiaro che quella cosa non la voglio fare e che mi sto riservando il diritto di paccarti e che spero che tu ti dimentichi o quantomeno che tu te ne vada a fare in culo ma il bastardo mi ha chiamato veramente alle nove e mezza di mattina perché intendeva seriamente svolgere attività motoria con me ora a parte che al mattino prima di parlarmi devi contare almeno fino a mezzogiorno e poi gli ho detto guarda dopo questa tua telefonata ho pensato molto alle parole da dirti erano parecchie quindi ho dovuto sceglierle con attenzione ma alla fine me ne è rimasta soltanto una vaffanculo allora ho scoperto che cos'è che fa ingrassare ed è il balsamo per la barba perché qua c'è scritto dona corpo e volume invece infatti io da oggi vorrei provare lo sgrassatore perché elimina anche il grasso più ostinato da tutte le superfici lavabili lo proverò e vi farò sapere se funziona no 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 Grazie a tutti.